Ciao ragazzi Grazie di essere qui con me oggi Oggi video molto semplice Dedicato specialmente al whispering e al tapping Con un piccolo show in there in mezzo Infatti oggi voglio fare tapping sui miei ultimi acquisti In ambito make up E partirò a mostrarveli dal più recente Almeno recente Partiamo subito Sono contenta che ci siano molte cosine in vetro Mi prometterò anche per fare un altro C'è un pochino più di suoni Però principalmente il tapping Allora Questo prodotto qui È della Bourjois E dal fondo ti entra l'ultimix Nella colorazione vanilla Che è quella che uso ora Che mi sembra sia abbastanza adatta È la mia Leggermente più scura Quindi adatta da quando Ti stai bronzando Ho sentito parlare di questo fondotinta Benissimo Da tante ragazze appassionate di make up E esperte Fra cui la prima è stata Giulia Benjic Spero si dica così il cognome Ne ha parlato Cleo Ne ha parlato Cleo Dose E Quando Ieri sono avanti Cota Io ho visto che finalmente Mi ha messo lo stand Di questa marca Non è esistito E effettivamente È È Meglio Meglio Passa Coprenza È È Insieme Al fondotinto Ho preso anche Il correttore Di questa marca Nella tonalità Medium Che penso Si chiamasse Vanilla Comunque È Sempre vanilla È Uguale Identica Al Fondotinta La tonalità Identica E Oggi l'ho usato Per la prima volta Mi piace Mi piace tanto Perché Ha un effetto Molto naturale Diciamo che Rende Molto più luminosa La parte Appunto Sotto gli occhi La parte degli occhiai Come siete Non le copre Completamente Semplicemente Le illumina Molto E dà un aspetto Riposato Comunque Quindi Mi piace molto È un po' caro Perché Per No In realtà Sono 7,8 ml Di prodotto Costa 11 euro Mi sconto Però in realtà No Questo è meno Perché è piccolino Poi Sempre Ieri Ho comprato Questo smalto Questo smalto Qui Come saprete Io Adoro Gli smalti Della Essence Però Mi li metto Sempre Con la mascherina Perché Hanno un odore Molto forte E Questo È un colore Nuovo Ed è molto Particolare Mi è piaciuto Subito Balzato All'occhio A parte Che Ma ne conosco Tutti E È un colore Mattone Oppure Un colore Zucca Scuro Infatti Si chiama È il 117 Pumpkin Spice Penso Spezia di Zucca Una cosa del genere Ed è appunto Un colore Mattone Bellissimo Bi Perdete Un Be L' Un 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Poi andando indietro nel tempo troviamo due acquisti che probabilmente avrete visto online e si tratta dell'illuminante di basic gaia nella colorazione ebe Questo qui, che ho anche addosso, non so se vedete, comunque è molto bello, vedete, è molto luminoso Ormai oggi brillo Che io adoro anche mettere sugli occhi come passate via da una luminosità incredibile Grazie 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 Altra cosa che ho preso sempre di questa marca è il prodotto di Erikioba Su questa superficie il tapping è molto particolare Infatti il back esterno è in tessuto, non in velluto E' un paletto viso in cui abbiamo un illuminante, un blush ed un eterna E io ho acquistato lo senza titolo numero 3, adatto per incarnati chiari e medi Dentro è così che troviamo Caravaggio che è un illuminante molto leggero Le due terre, Venezia e Vivaldi Non si vede molto la differenza qui, per vivo si vede E il blush che ho indosso ma che non ho riuscito a vedere granché Ero indecisa se prenderla appunto per il blush Vedete il soffitto qui, è legno Perché Erika l'ha descritto come un blush pescato E se c'è una cosa che su di me non sta bene è l'arancione Il pesca, il corallo Il corallo su di me sta di un mare E quindi ero un po' indecisa Invece adoro questo blush E' bellissimo Me ne trovo mistia molto bene Inoltre adoro la cura dei dettagli di questa palette Secondo me sia Erika che Kai hanno fatto un ottimo lavoro E sono veramente contenta di averle sostenute nel mio piccolo Andando ancora più indietro Ho acquistato Questo fondotinta della pubba Che è Un pochino scuro Per la mia carnagione La luce della profumeria era un po' ingannevole Non costa neanche poco perché costa 19 euro Mi sconto, penso Non costa poco Penso l'userò un pochino Cioè l'userò Quest'estate Per ora lo stavo usando Mixandolo con un altro fondotinta Della essence Che per me è veramente chiaro Il Fit Me Isandro Che è molto chiaro Quindi mischiandoli più o meno Te ne vado a valore Se non può essere rialtoso Tranquilissimo ok non so se riusciate a vedere tipo la fotocamera diciamo che me l'aspettavo leggermente più coprente non mi ci trovo male però non penso fa anche 19 euro questo io cercavo tantissimo quello della L'Oreal ma era finito e mi sono fatto un po' fregare dalla voglia di acquistare un fondotinta vabbè comunque è loser sempre nello stesso giorno mi serviva una cipria e quindi ho preso questa della Essence e quindi ho preso questa se non parlo mi viene suono non c'è molto da dire sempre della essence quel giorno ho comprato questo che avete visto in azione nel video che è 3D with me insieme anche al fondotinta non so se si veda è un eyeliner metallico bellissimo io lo uso come ombretto liquido e sono indecisa di prendere anche quelli per i quelli per le labbra tipo i rossetti metallici per le labbra perché sembrano bellissimi sull'occhio bello questo è il colore 01 un colonnale ombretto 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 il colore è un colore molto bello molto luminoso sempre quel giorno sempre dell'essence ho preso questo smalto è il 110 Purifection pura perfezione volevano fare il gioco di parole esempio della collezione Jenny Polish dell'essence ne avrò una quindicina di smalto una decina forse adoro forse questo fra tutti tutti è il mio preferito perché è molto ci sono alcuni che sono molto più consistenti di altri ad esempio questo non dà l'effetto gel anzi devo dire che risulta abbastanza matt questo è quello più di tutti che dà l'effetto gel sembrava che l'avessi le mani con il gel sopra non per lo spessore ma per l'effetto semi trasparente semi nude si intravedeva l'unchia ma è bellissimo vi ho messo le strane evidenze sui inevitizza su instagram comunque e l'odoro se lo trovate prendetelo perché è bellissimo ultimo acquisto su cui voglio fare un po' di tapping è la rose gold di uta beauty il bag è bellissimo perché vedete da un certo punto di vista mette il risalto semplicemente gli occhi e le labbra e invece sono guardate così è normale veramente bello sembra che abbia proprio l'illuminante che si giri è la remastered questo e dentro per chi non sapesse ancora com'è fatta ma famosissima è fatta così qui c'è la qui c'è la fotocamera lì c'è un po' di casino lì c'è il silver battono io non taglio queste parti perché sono sempre curiosa di vedere cosa davanti che fa il video quindi ci sto che siate curiosi e madonna quanto quant'illuminante mi sono messa ora di questa paletta ho solo l'ombretto nero sotto l'occhio che mi risulta molto utile e mi dà un effetto molto più bello rispetto alla matita e mi sta piacendo tantissimo perché io non abbia ancora usato tutti i colori penso sia giunta l'ora di abbassare l'errù e augurarvi una buonanotte 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 dolce sueño buonanotte 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 fate bei sogni vi mando un bacione i che l'espero